di calcio mercato che chiude domani sono momenti decisivi proprio per Zaniolo e Skriniar ma per tutti i particolari ci colleghiamo con l'inviato a Milano Ciro Venerato, a te Ciro Buonasera da Milano Andrea, Zaniolo è alla Spezia, in questo momento ha avuto anche una call col suo procuratore Vigorelli, diamo subito una notizia, non andrà all'Ipsia, si era sparsa questa voce, non c'è l'accordo con l'Ipsia, al momento non c'è nessun club caldo su Zaniolo, anche il Milan si è chiamato fuori ieri notte, per quanto invece riguarda Skriniar, destino opposto, è molto probabile che entro stanotte, al più tardi domani, il calciatore lascia Milano per raggiungere subito Parigi, in queste ore il calciatore attraverso il suo agente si è detto disposto a tagliarsi qualcosa, mi riferisco al bonus di 20 milioni promesso alla firma pur di accelerare il suo addio a Milano e permettere a Parigi e a Germania di offrire la cifra che più o meno Marotta chiede, non tanto 20 ma 15 con i bonus e De Miral dell'Atalanta potrebbe essere la prima alternativa al calciatore, passiamo invece poi al Milan che sta cercando di prendere l'attaccante cileno Osorio, offerta di 5 milioni più uno di bonus e il 30% sulla rivendita per superare Aston Villa, Tottenham e Newcastle, posto di Premier, lì veramente girano tanti soldi, Andrea Cancelo, Ex Inter e Juve è un nuovo calciatore del Bayern di Monaco, lo ha rilevato dal City con prestito condito di riscatto fissato a 70 milioni, rimanendo in preme a richiudo lascia all'Italia anche il Granata Lukic che firma per il Fulham 10 milioni più bonus a Urbano Cairo, da Milano è tutto, a te la linea. Grazie Ciro Venerato, vi ricordo questa sera alle ore 23 su Rai Sport HD l'appuntamento con calcio totale condotto da Paolo Paganini. Per il campionato il quadro della